Gentili telespettatori, buona giornata. Nel governo vedono, secondo alcune fonti, le cose in un certo modo riguardo quello strano invito che ha fatto la Lamorgese a Salvini. Vieni a darmi i consigli, dammeli tu i consigli. Quello lì non era un fatto di spavalderia, come dire dammeli tu i consigli che ci sai fare. Realmente la Lamorgese si trova lì come tappabuchi. Conte l'ha messa lì come prefetto, come dire stai lì, non ti muovere, decido tutto io. Poi arriva Draghi e dice stai lì, non ti muovere, decido tutto io o decidiamo tutto noi. Quindi la Lamorgese, ex prefetto di Milano, è messa lì come tappabuchi, come dire stai lì ma non dire niente. Perché lì è un problema quel ministero. C'ha problemi il ministero. E lei che si trova lì senza poter far nulla, anzi spalleggiando il PD, inneggiando alla cancellazione dei decreti di sicurezza, sapendo perfettamente che avevano funzionato alla stragrande, in maniera assolutamente illegale, firmati anche dal Presidente della Repubblica, adesso dice io qua non posso fare niente e mi dicono che sono un incapace. Allora che faccio? Dico a Salvini dammi tu i consigli, sapendo che poi quello lì arriva subito. Infatti Salvini ha subito scritto i giornali. Adesso glieli dico io i consigli, anzi sono ben contento, felice di dargli i consigli perché io so come si fa e realmente lui sa come fare il ministro dell'interno. Su questo non possiamo dire assolutamente nulla. Su questo non si può dire niente a Salvini. Come ministro dell'interno non gli si può dire niente. Vieni a darmi i consigli. Così Salvini dice sono pronto ad incontrarlo e la Lamorgese dice sono pronto ad incontrarlo. Si incontreranno. Salvini gli dirà bene. Allora la Lamorgese dice mi dica onorevole, magari si danno del tu. Sì Matteo dimmi, io prendo appunti, anzi registro anche, dimmi tutti i consigli. Devi fare i decreti sicurezza nuovi. Ah ok. Devi fermare le ONG. Ok. Devi dirgli voi non sbarcate fino a Natale. Ok. Devi fare questo. Ecco scritto tutto. E la Lamorgese gli dirà bene. E l'altro dice vanno bene questi consigli a lei. Certo. Adesso ne parlo con Draghi. Avete capito dove vuole arrivare la Lamorgese? Va da Draghi e dice mi date dell'incapace. Lei Draghi mi dice vada in Libia, vada in Europa, vadi vadi, si facci vedere, no? In stile fantozino, si facci vedere. Vadi vadi. E dice io sono andata in Europa. Non ne vogliono sapere come è ovvio. Non è per la Lamorgese. È ovvio. Anche Salvini ci ha provato. Anche Giuseppe Conte ci ha provato. Anche Draghi ci ha provato. In Europa è normale. È normale che nessuno in Europa si voglia prendere automaticamente i clandestini che fa entrare l'Italia. È ovvio. Matematico. Sarebbe strano se fosse il contrario. È andata in Libia la Lamorgese. Ma se andate in Libia senza ungere le ruote, senza dare i soldi e fare degli accordi per fermare le partenze, non risolvete niente. Se andate in Libia a dire ciao, come va? Come butta? Sono il ministro dell'interno italiano. Ah, benvenuto. Vuole mangiare qui in un ristorantino? Fa un po' caldo. Accendiamo l'aria condizionata. Beh, devo tornare in Italia. Arrivederci. Torni. È bello che lei ci venga a trovare. Cosa ha risolto? Niente. Lo sa perfettamente la Lamorgese che non può risolvere niente se non ci sono degli accordi di un certo tipo, un blocco navale come dice la Meloni, o i decreti sicurezza come fa Salvini. E allora lei andrà da Draghi dicendo, bene, bene, visto che io non sono capace a fare niente, Salvini mi ha dato dei consigli. Premier, che facciamo? Eh? 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 Questi sono i consigli. Senta un po'. Fare un paio di decreti sicurezza. Dire alle ONG tu non sbarchi fino a Natale. Ok, queste sono le principali linee guida. Decreti sicurezza, fermare le ONG, far capire che qui non c'è trippa per gatti. Eh? Premier, lo facciamo? Eh? Me l'ha detto Salvini, hai detto che non sono capace. E il premier dovrà dire, ma vabbè, aspetta un momento, aspetta perché i decreti sicurezza non... Adesso non... Adesso non... In questo momento non si possono fare perché... C'è Letta, il PD, Speranza, Giuseppe, Di Maio, Grillo, Cipalippa, Trick e Track. Quindi non... Eh? Ma allora fermiamo le ONG. Eh no, fermare le ONG, chi si prende la responsabilità? Poi arriva il giudice, ti chiede l'autorizzazione a procedere. Capito? Nel governo fonti dicono guardate che la morgese non è che è in bambola, quella è furba, sta cercando, dicendo Salvini è la mia salvezza, lo chiamo, mi faccio dire le cose, dico Draghi, guarda, mi criticano, queste sono le cose che dovrei fare. Eh? E Draghi magari gli chiede, ma la morgese lei è d'accordo? Eh beh, visto che io le cose che ho fatto non hanno portato a nessun risultato, non perché sono io, ma perché è ovvio, come vi raccontavo prima. Qui Salvini dice, me lo sono scritto, eh, riduzione degli sbarchi meno 79,6%. Eh, ma è vero, è vero, ecco. Pertanto, se lui è ridotto di sbarchi del 79,6% e qua si sono decuplicati, cioè sono dieci volte di più quelli di quando c'era Salvini, probabilmente, visto che anche sul caso Gregoretti il giudice ha detto Salvini ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto anche bene, non ha fatto niente di male, ecco, se Salvini non ha fatto niente di male e ha ridotto gli sbarchi del 79,6%, allora, caro Premier, eh, carta canta, eh, cantiamo tutti insieme, tra l'allero, tra l'allà, chiama anche Gentiloni che cantava Bella Ciao in Europa, eh, o Gualtieri con la chitarra Bella Ciao e facciamo tutti una bella cantata, eh? Possiamo cantare io mangio la pasta. Bene, questo è quello che si dice, la Lamorgese è nell'angolo, tra virgolette, ma guardate che sta facendo lo scacco matto al governo. Beh, ovviamente, interessante questa teoria, se credo proprio che sia così, vuol dire, la Lamorgese dice, vabbè, Salvini mi dice che sono un incompetente, vieni qui, dimmi come fare, e poi io lo propongo al governo, e poi, quando Draghi dirà di no, caro Salvini, parlaci tu con Draghi, non dire più a me che sono incredibile, diccelo a Draghi, ecco, scontrati con lui, avete capito? Ecco, questa è la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, dove trovate questi video messi lì dopo qualche ora, condivisi dopo qualche ora, come si dice adesso, condivisi, e poi siamo anche in, nell'altro canale di Youtube, che si chiama Teleitalia Seconda Rete, dove ci sono video di politiche, anche di fai da te, come costruire delle cose, mia moglie poi fa dei video su queste, su questo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.